Il Paradiso 7, Cristian e Roberto, con Camarrone tutto può accadere, c'è feeling. Nasce l'amore sul set del Paradiso delle Signore? Questa è l'ultima indiscrezione di gossip riguardante due giovani protagonisti della soap opera che, tutti i giorni, appassiona una media di quasi due milioni di fedelissimi. Al centro del gossip vi sono il giovane Cristian Roberto e Delvira Camarrone, il feeling speciale tra i due. Nella vita reale, non è passato inosservato ai tantissimi fan sociali appassionati della soap opera. Nel dettaglio, Cristian e Roberto è stato una delle new entry di questa settima stagione del Paradiso delle Signore. Vestendo i panni del giovane Francesco Rizzo. Arrivato in città assieme a sua mamma Palma, il giovane Francesco ha saputo intercettare il gradimento del pubblico fino a diventare uno dei volti di punta della soap opera. E, proprio sul set della soap opera, è nato un feeling speciale con l'attrice Elvira Camarrone. Che nella soap veste i panni di Clara. Io ed Elvira ci conosciamo da anni. Tra di noi si è creato subito un bel feeling. Sembrava di conoscerci da sempre, ha ammesso l'interprete di Francesco parlando del suo rapporto con la giovane attrice e collega. Abbiamo molte cose in comune, condividiamo gli stessi interessi, siamo contenti di esserci ritrovati di nuovo sullo stesso set. Ha rivelato l'attore del Paradiso delle Signore. Chissà, tutto può accadere, ha chiosato ancora Cristian parlando del suo legame speciale con la collega. In attesa di scoprire se nascerà davvero qualcosa di speciale con l'attrice Elvira Camarrone. Il giovane interprete di Cristiano ha anticipato che nel corso delle prossime puntate della soap opera. Continuerà ad esserci spazio per le vicende legate al triangolo tra Francesco, Maria e Vito. I tre saranno ancora al centro delle trame della soap opera, complice l'interesse che il giovane Rizzo prova nei confronti della sarta del grande magazzino, nonostante la sua relazione con Vito Lamantia. Intanto, però, gli spettatori e appassionati del Paradiso delle Signore dovranno attendere un po' di tempo prima di poter vedere le nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione della soap. La messa in onda della serie, infatti, risulta sospesa per tutto il periodo della stagione estiva e al suo posto ci sarà spazio per le nuove puntate della soap iberica, 6 sorelle. Di conseguenza, gli episodi inediti dell'ottava stagione torneranno in onda da settembre 2023 in poi nella fascia del pomeriggio.